Ciao a tutti ragazzi, sono Yomi Shan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, ho deciso di fare una recensione, infatti vi volevo parlare, della Regina di Gitto. Come vi dicevo l'altra volta nel video acquisti, è una novità recente della J-Pop al prezzo di 6,50€ ed è un seno in genere drammatico storico. La Regina di Gitto, devo dire, mi ha colpito fin da subito, era un titolo che aspettavo da parecchio tempo, anche perché ero curiosa di vedere la tavola che davano il regalo e dopo infatti lo andremo a vedere insieme per chi non avesse avuto la possibilità di vedere i videoacquisti più da vicino, perché è una tavola veramente bellissima e utile soprattutto anche per vedere quanto lavoro c'è stato nel creare soltanto una tavola, sia per quanto riguarda il tratto ma anche il bellissimo tocco di chiaroscuro. Per quanto riguarda l'edizione è veramente ben fatta, ci presenta Gianco Pertina, la nostra protagonista, agghindata con i classici, diciamo, gioielli tipici dell'Egitto, la scritta proprio vicina di Gitto e qui continua dietro. La carta è molto resistente, come pure le pagine all'interno, è dotata di una sovracopertina però di nessuna pagina a colori e questa è la prima tavola che troviamo all'interno del manga. La storia, devo dire, l'ho trovata fin da subito molto interessante, però già come noterete dai primi capitoli è leggermente romanzata. È tratta da una storia vera, infatti la storia si apre con il matrimonio tra lei e il fratellastro Seti. Questo matrimonio tra l'altro servirà a Seti per poter salire al trono e diventare così su Tsumose II. L'astio però che prova lei, diciamo, verso il fratellastro si nota fin da subito perché ci viene mostrata anche l'infanzia della nostra protagonista. Ha sempre avuto un carattere da maschiaccio, gli è sempre piaciuto combattere e il suo sogno è quello di diventare faraone, aspira infatti al trono di faraone e cerca in tutti i modi di far valere il suo carattere rifiutando i limiti alle imposti naturalmente. Quindi è una protagonista veramente tenace che ci dimostrerà il suo carattere fin dalle prime pagine. Tra l'altro compariranno altri personaggi molto particolari, soprattutto uno che già ci mostrerà il suo carattere all'interno del primo volume, alla fine diciamo del primo volume e quindi sono molto curiosa anche di vedere come andrà avanti la storia. Non conoscevo la storia di questa regina e quindi piano piano mi sto appassionando alla storia, quindi sono molto curiosa di vedere come andrà avanti. Il tratto è qualcosa di meraviglioso, come dicevo infatti dopo andremo a vedere la tavola. Questa è il tratto, tra l'altro è lei quando era piccolina qui e questa è lei invece durante il matrimonio. Come si può vedere già anche dalla copertina c'è una grande attenzione ai dettagli, soltanto per quanto riguarda i gioielli, il trucco degli occhi che a quel tempo era molto spesso proprio per dare profondità ed eleganza al viso e poi mi piace molto anche questo gioiello qui, è bellissimo. Allora, eccola qui come si presenta la tavola che vi dicevo all'inizio, è veramente bellissima. Qui abbiamo il contrasto fra il chiaro e lo scuro, dato soprattutto che si evidenzia infatti nei capelli e anche nei gioielli e sullo sfondo. Qui si può vedere infatti, a questo punto qui, un po' della bozza, diciamo, del lavoro e della struttura della tavola. Qui le varie parrucche che poi indosserà la nostra protagonista. Quindi una tavola veramente interessante che ho apprezzato veramente tanto. Quindi in conclusione ci tengo veramente tanto a consigliare la lettura di questo primo volume per gli amanti soprattutto delle storie degli riguardanti l'antico Egitto ma anche per chi volesse leggere qualcosa di diverso e cercasse una protagonista forte e determinata allo stesso tempo. Bene ragazzi, con questo mi sembravi detto tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di prendere questo primo volume e se vi è piaciuto oppure no, che sarei veramente molto curiosa di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!